Sono Giovanna Battaglia e sono dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore Enrico Medi di Palermo. L'Istituto, che ha circa 1.100 alunni, ospita percorsi di istruzione professionale, di istruzione tecnica e anche di FP. La pandemia ha completamente stravolto la modalità di fare lezione e ha stravolto anche il rapporto tra la scuola e la famiglia. Di fronte alle sfide in occasione del primo stop e adesso del secondo stop, la scuola si è dovuta interrogare rispetto soprattutto a tre nuclei. Come raggiungere i ragazzi che non vediamo più la mattina in presenza a scuola, come rispondere alle esigenze più diverse della popolazione che negli istituti professionali è molto fragile. Come garantire una formazione, quindi le attività laboratoriali in presenza che sono imprescindibili per il tipo di istituto che dirigo e anche come supportare i docenti che nell'ultimo anno sono stati l'ultimo terminale del rapporto tra la scuola e la famiglia ma anche oserei dire tra lo Stato e la famiglia. Per rispondere alle esigenze e le sfide che dicevo prima per me una risorsa fondamentale è stata l'appartenenza all'associazione Diesel per la concezione delle direzioni della scuola che ha l'associazione. Partecipare ai webinar, agli incontri che ci sono stati mi hanno aiutato a non perdere mai la rotta, nonostante non fosse sempre ben chiara qual era la direzione da prendere. Per cui sono sempre grata all'associazione che non si perda tempo a sottolineare rivendicazioni di natura sindacale o politica, ma quanto l'aiutare ogni dirigente scolastica a comprendere quale può essere la strategia migliore per rispondere alle esigenze della realtà. Sono grata del fatto che in tutti gli incontri ci si è sempre confrontato su modelli e sulla attività di condivisione che ciascuno col proprio staff faceva all'interno del proprio istituto. Questo proprio ha consentito di mantenere salda la direzione. Abbiamo capito che per i ragazzi dell'istituto professionale era fondamentale ritornare in presenza perché le competenze di natura tecnica e professionale non potevano in alcun modo essere acquisite attraverso una didattica a distanza. Allora quest'estate ci siamo trasformati in imprenditori edili, abbiamo messo a questo quadro tutta la scuola nell'intento di realizzare un obiettivo. A settembre tutti i ragazzi dovevano essere in presenza per svolgere le attività laboratoriali e non solo. E così questo che vedete per esempio è un capannone che era a giugno ingombro di spazzatura e arredi dismessi, è stato pulito, è stato svuotato, tutti possono comprendere qual è la difficoltà a cui siamo andati incontro ed è stato realizzato questo laboratorio elettrico che consente per la sua ampiezza di accogliere classi anche di 28 alunni e ha consentito di liberare aule all'interno dell'istituto per cui noi veramente a settembre siamo partiti con tutti gli alunni in presenza senza necessità di sdoppiamento delle classi e quindi senza la necessità di chiedere organico covid. Grazie per la visione!